ben tornati amici di radio news 24 ed on air interviste e storie io sono calogero gambino e per noi è un piacere ritrovare ai nostri microfoni giocavallo di giocavallo eventi lo andiamo a trovare in quel di rimini e quindi lo salutiamo di nuovo ciao gio e bentornato qui ad on air ciao calogero e saluto tutti gli amici di on air di radio news 24 ciao benvenuti e allora e per l'appunto non è la prima volta che ti trovi a parlare di te però intanto ricordiamo agli ascoltatori che magari non hanno avuto modo di sentirti la prima volta di ricordare un po chi sei e di presentarci un po anche la tua attività quindi giocavallo eventi quindi noi ci occupiamo di tutto quello che è l'intrattenimento dalla musica dagli attività dei giochi ma anche dall'allestimento audio video palchi per le grandi feste matrimoni feste nei centri commerciali feste nelle piazze finché era possibile e collaboriamo anche con gli eventi congressi un po tra la romagna le marche e un po anche la toscana e la puglia quindi il nostro focus è far sì che la gente si diverta in maniera mirata in maniera mirata quindi anche direi su misura a seconda anche dei clienti e allora veniamo insomma e stiamo ancora in un anno molto particolare il 2020 e ha avuto anche modo di parlarne durante la prima intervista ecco ma in questa dato anche che tanto più che la tua seconda ecco adesso facciamo un po una seconda parte perché è un anno davvero che parliamo di e giustamente anche insomma di aspetti negativi del periodo e chiaramente però si può andare avanti in ogni caso non dimentichiamolo mai quindi adesso apriamo appunto questo secondo tempo ti voglio chiedere se hai insomma già progetti pronti come stai affrontando adesso questa fine dell'anno insomma raccontaci un po del presente del futuro prossimo e anche magari a medio lungo termine vai giù e raccontaci un bel po almeno qui in riviera da giugno è stato possibile già riaprire un po le frontiere col turismo locale i ristoranti hanno potuto riaccendere le cucine e anche usufruire degli spazi esterni per ampliarsi ecco noi come agenzia come team di intrattenimento abbiamo inventato due format che ci permettessero di sopravvivere per lo meno questo estate che era permesso festeggiare in maniera mirata alcune ricorrenze la prima di cui ti voglio parlare è la festa covid free che abbiamo realizzato in circa 25 eventi tra san marino e rimini parliamo di 10 feste di matrimonio e anche delle feste realizzate su delle grandi terrazze dove cenavano anche 200 persone in maniera molto distante lì si svolgeva un intrattenimento sicuro e mirato dove la gente poteva interagire con noi usando il cellulare tramite un'applicazione che noi abbiamo realizzato che si chiama eugenio ma poteva anche cantare da posto su dei videoclip mandati sui ledwall e poi pensa bene calogeno riuscivamo anche in maniera sicura e controllata a farli ballare tu dici perché come facevamo a farli ballare ti faccio vedere abbiamo realizzato dei cartelli che in base a come si comportavano i nostri ospiti venivano o ammoniti se si stavano avvicinando troppo o addirittura espulsi per 5 minuti tornavano a sedersi a tavolo oppure le persone che si comportavano ballavano distanti con la mascherina in maniera controllata venivano premiati con gadget feed drink e consumazione questo ha permesso in maniera giocosa anche un po usando il gaming di controllare le due trecento persone a disposizione e di tra virgoletta sospendere chi magari si stava un attimino lasciando andare troppo dall'enfasi è fantastico perché è una bella anche lezione cioè di far di necessità virtù davvero avete trasformato una necessità in realtà in una nuova opportunità di intrattenimento di divertimento giocosa come dici tu ti chiedo velocemente di passare alla seconda per raccontarcelo al volo e poi fare anche una bella chiusura magari con qualche consiglio molto valentieri molto valentieri la seconda se vedi qui qui c'è un elmetto abbiamo per le attività con cui lavoravamo negli anni grandi hotelle le grandi catene come l'ambasciatore lo sporting le grandi catene quattro stelle che sono nella riviera abbiamo organizzato dei bike tour by night quindi insieme a un cantastorie insieme a una guida ogni sera gruppi di 15 20 persone venivano portati nella scoperta della rimini storica 2000 anni tra la rimini romana e quella moderna passando dal cinema di fellini il bello di questa attività è che permetteva alla fine delle tre ore di intrattenimento con la musica durante ogni step di fotografare e di vivere questa storia in maniera sicura perché stando in bici si era tutti distanti più di tre metri l'uno dall'altro e che alla fine c'era una vera e propria caccia al tesoro quindi gli ospiti oltre a vivere un'esperienza nuova giocavano nella parte finale con tanto di mappa nel trovare un tesoro con un premio finale che era un soggiorno vacanza per ritornare a trovarci in riviera insomma è ancora il tempo di divertirsi in sicurezza ma ci si può divertire e peraltro anche con molta originalità ti chiedo al volo se hai qualche consiglio a nome un po' di tutti quelli che si occupano che sono nel tuo settore sì quindi mi permetto dopo esservi consultato con più di 50 colleghi di offrire tre spunti alle autorità al governo a chi magari si occupa a chi magari in ascolto se c'è qualcuno della si hai sono tre consigli mirati facili di facile attuazione per permettere il 2021 di riprendere e non chiudere tutte le attività come la mia la prima chiedo delle sovvenzioni reali per quelli del nostro settore anche perché ormai tra un mese ci sarà la dichiarazione dei redditi quindi sarà facile per le autorità di controllo paragonare il fatturato del 2019 al fatturato del 2020 ed è anche un modo per incentivare per premiare chi ha sempre svolto l'attività in regola fatturando ogni introito ogni evento realizzato questo potrebbe essere un modo semplice che finora non è stato fatto il secondo invece parlo della si hai in questo caso della dg online la dg online che è una tassa che paghiamo noi professionisti sulle copie lavoro è di circa 400 euro annui per tutto il 2019 è stata da noi pagata ma abbiamo potuto soffrire solo di 4 mesi su 12 quindi per il prossimo anno anno davvero chiedo alla dg online di sospendere per noi che da cinque anni oltre paghiamo questa tassa di sospendere magari solo per il 2021 sarebbe un modo per farci capire che non siamo solo dei numeri ma facciamo parte di questo grande gruppo che è l'intrattenimento e la musica e l'ultimo mi riferisco alla siae chiedo davvero per la prossima estate per la prossima stagione di dimezzare le tariffe per lo meno per le feste private una coppia che organizza un matrimonio un ragazzo che si laurea o una coppia che vuole festeggiare un anniversario non ha uno scopo di lucro nell'organizzare la propria festa e quindi non vedo come possano pagare una tassa di circa 400 euro per un matrimonio 200 euro per un compleanno e sarebbe un modo per disincentivare l'organizzazione di una piccola ricorrenza ecco allora quindi assolutamente seguite anche giocavallo eventi su web ricordo le pagine social facebook giocavallo eventi lo stesso su instagram giocavallo eventi c'è anche un canale youtube e potete cercare giocavallo anche lì e gio ricordaci anche il sito di riferimento sì vi ricordo che il sito è uguale un po a tutti gli altri contatti e giocavallo eventi dove con gio intendo scrivetelo in italiano con la g di genova ok quindi non all'americana le americanate ne abbiamo sentite fin troppe ma la g insomma la gio di gioia del resto che è quello che vogliamo trasmettere in tutta sicurezza con giocavallo eventi giocavallo eventi è stato davvero un piacere averti qui ai nostri microfoni ciao grazie ciao ciao a tutti grazie dai e radio news 24 e doner tornerò